Ok, adesso la sigilliamo, questa bussola che abbiamo installato, abbiamo già iniziato, questa è la parte finale, abbiamo già consumato quello che già avevamo, vediamo lentamente, lentamente, che se no, gonfia troppo. Ok, in questa manovolta, in questo verso dovete procedere con cautela, senza spingere troppo la cannuccia, se no esce fortissimo, vedete, quella si schiaccia. La possiamo registrare, lentamente, se vuoi registrare, manualmente, eccolo qua, un altro punto D, nell'angolo, anche in questo altro angolo, anche qui, anche D, un po' rettino, ok.